Ma davvero c'è qualche persona seria che crede che in Italia ci sia un reale pericolo di ritorno del fascismo, inteso nel senso di un partito di estrema destra che grazie alle violenze di piazza conquista il potere e poi instaura una dittatura? Eppure lo spauracchio del fascismo viene agitato a ogni piesso spinto dalla sinistra, approfittando e ingigantendo fatti di cronaca come quello accaduto pochi giorni fa davanti a un liceo fiorentino. Sia ben chiaro, la violenza va sempre condannata ma da qualsiasi parte provenga e soprattutto i fatti vanno accertati e poi giudicati nella loro esatta dimensione. Usare un pur esecrabile episodio per montare una campagna assurda e violenta è il tipico metodo di chi vuole instaurare una egemonia culturale e politica. Ebbene ha fatto il ministro dell'istruzione Valditara a criticare la preside del liceo fiorentino che evidentemente non coglie la differenza tra compito educativo e scuola di partito.